Ciao ragazze e bentornate sul mio canale! Il video di oggi, come avete visto dal titolo, è totalmente dedicato a tutti gli ultimi acquisti che ho fatto da Ikea e sono veramente soddisfatta, io adoro andare a Ikea, generalmente ci vado ogni anno, proprio in questo periodo, cioè nel periodo primavera-estate, ora non so di preciso quando farò uscire questo video, però appunto sono andata in primavera, quindi con i vari cambiamenti che faccio in casa, eccetera. Mi piace sempre andare un pochino in questi negozi per vedere quali sono le novità e per trovare qualcosina di nuovo da poter aggiungere in casa per violare un pochino l'arredamento e rendere tutto l'ambiente un pochino più confortevole. Quindi ho tutto questo sacchettone pieno di acquisti che ho fatto all'Ikea, spero che quindi questo video vi piaccia, come al solito girerò l'inquadratura e vi farò vedere soltanto i prodotti, in modo che così li possiate vedere più da vicino. E niente, se vi piace questo genere di video mi raccomando lasciatemi un like qua sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ringrazio tutti quelli che stanno guardando, che si iscriveranno, a tutti i benvenuti e i nuovi iscritti. Se vi va dato un'occhiata al mio canale troverete ogni sabato un nuovo video con diversi argomenti. In questo caso siamo nei video dedicati alla casa, che sono tra i miei video preferiti. Unitemi su Instagram, se vi va vi lascio il link qua sotto. E adesso giro l'inquadratura e vediamo che cosa ho comprato da Ikea. Ok, quindi qui c'è tutto il sacchettone con le cose che ho preso appunto dall'Ikea, come vi dicevo nell'introduzione. Alcune cose che ho preso alla bottega svedese, ve le ho già fatte vedere ieri sera, proprio appena arrivata, perché le dovevo mettere in frigo. Quindi cominciamo subito a spacchettare. Allora, partirei con i soliti, che credo che li compriate tutti, i tovaioli dell'Ikea. Sono un buon rapporto qualità-prezzo, anche perché ce ne sono 50 e sono abbastanza grossi. Infatti sono dei quadrati di 40 centimetri e durano abbastanza. Poi hanno sempre dei colori molto belli, io li uso tantissimo per fare le fette in giardino. Sentite in sottofondo i bimbi che giocano, però lo sapete nei miei video abbastanza frequente. Questa volta li ho presi azzurri, i blu, che secondo me si abbinavano bene, poi anche con la mia tavola ci potevano stare. Poi li ho presi rosa, questo rosa, molto bello. E poi ho preso anche i classici bianchi, però questa volta li ho presi più piccoli, da 30x30 centimetri. Tanto fanno lo stesso la loro funzione e costavano meno e tra l'altro ce ne sono 150, molti di più. E quindi li potrò usare, mi sembrava un migliore rapporto qualità-prezzo e li userò per molto più tempo. Poi ho preso questo putpourri, Dofta, che ho già preso più e più volte, però ovviamente dopo un po' perde l'odore, quindi l'ho dovuto ricomprare. Fa un buon profumo, veramente molto buono, io scelgo sempre questo qua, l'aroma di vaniglia. E niente, dura abbastanza, ovviamente non in eterno, generalmente per farlo durare un pochino di più ci spruzzo sopra del deodorante per ambienti. Quando sta perdendo un pochino il profumo ce lo spruzzo per allungare un po' di più, però adesso lo dovrò buttare via e sostituire con questo qua nuovo. Poi ho voluto prendere queste tre spugnette per lavare i piatti, sono di colore grigio e bianco. Non le avevo mai provate, ho deciso di prenderle per la prima volta, anche se poi in realtà il rapporto quantità-prezzo non era ottimale. Mi sembra che costassero 99 centesimi, tre spugnette, non è un prezzo fantastico, infatti li potete trovare anche a meno in altri negozi. E queste qua non le ho mai provate, le proverò, vi farò sapere, si chiamano Swamping. Sempre come deodorante per l'ambiente ho preso questa candela all'aroma di vaniglia, sempre che è il mio preferito per l'ambiente, anche perché poi generalmente sono bianche e si intornano bene con casa mia. Io non è che amo tantissimo le candele, però ogni tanto le, cioè in realtà non è che le accendo, le lascio lì più che altro perché fanno il profumo già da sole, quindi non ho bisogno tanto di accendere. Comunque ho preso anche questa qua, ma perché diciamocelo, ogni volta che si va all'Ikea una candela si prende sempre. Ho preso queste bustine di plastica che ovviamente riciclo più e più volte, da un litro secondo me sono veramente molto comode, sia come sono confezionate, nel senso che si aprono qui e le potete estrarre direttamente, e sia proprio per la loro funzione. Io le uso per tantissimi utilizzi, anche solo per metterci, che ne so, i pannolini dei bambini, oppure per metterci le pappe, i cucchiaini, i bavaglini, oppure ad esempio in aereo per metterci liquidi nella busta trasparente, cioè hanno veramente tantissimi utilizzi per suggerare le cose in cucina, oppure per tenerci i trucchi, li uso anche in bagno per metterci magari i trucchi, veramente li uso, tantissimi scopi potete trovare, in più poi li potete lavare e riutilizzare. Poi ho preso queste mollette chiudi pacco, queste le trovo veramente comode, imbattibili, fantastiche, anche queste le utilizzo per chiudere i pacchi dei biscotti, chiudere, ora non lo so, i pacchi della pasta, delle polveri, delle farine, dello zucchero, dei prodotti per bambini, tipo che ne so, della pappa lattea, della pastina per il bambino, delle polveri, delle farine per i bambini, cioè le potete utilizzare per chiudere qualsiasi cosa, sono molto resistenti, ce ne sono di diverse dimensioni, vedete ci sono queste qua più lunghe, più grandi, per pacchi più grossi, ma anche queste qua più piccole, per pacchi più piccoli, quindi queste tra l'altro durano in eterno, è difficile che si rompano, a meno che proprio qualcuno non ve le spacchi, come ad esempio i bambini. Poi ho preso questo mitico barattolo, io in realtà di questi barattoli ne ho già tanti e li utilizzo generalmente per tenerci la pasta oppure biscotti e li trovo veramente, veramente comodi, anche questi qua, perché conservano bene gli alimenti, li potete tenere anche magari esposti in cucina per fare una, così come soprammobili, per fare una composizione, secondo me stanno anche bene, sono dei buoni oggetti di arredo, ce l'ho di diverse dimensioni e come state vedendo li utilizzo appunto in cucina tantissimo, ce l'ho anche piccolini per metterci il sale e magari i legumi, come vedete qua, e niente è un prodotto che costa poco, ve lo consiglio anche un vetro abbastanza resistente, ne ho comprato un altro perché ci voglio andare a mettere degli altri biscotti oppure la pasta. Anche questo prodotto qui è un prodotto che io adoro di Ikea, ho tre sottopentola di sughero, io ce li ho già di dimensione ovale, ma dato che si stanno un pochino rovinando, li ho voluti riprendere, in realtà quelli che ho già non li butterò via, perché comunque si possono tranquillamente continuare ad utilizzare, però questi qua nuovi, almeno sono un po' più carini, questi qua ve li consiglio, sono tra i miei prodotti preferiti di Ikea, anzi vi lascio giù in descrizione il link di un video che ho fatto di recente, in cui vi faccio vedere quali sono secondo me i 10 prodotti Ikea che dovete per forza avere, cioè che secondo me tutti dovrebbero comprare, perché sono veramente prodotti super utili, economici e molto molto validi. Poi ho voluto provare a prendere, allora qua c'è il metro, lo leviamo, lo do alla bimba così ci gioca, allora qui ho voluto provare a prendere anch'io, dato che lo sto vedendo in tutti i video Ikea, che trovate su YouTube o comunque online, questo cestino, veramente lo trovate ovunque, è il cestino Risa Torp, che la gente utilizza in diversi modi, veramente molto versatile, io ho preso questo qua bianco, perché si intona meglio con la mia cucina e il mio arredo, mi piaceva anche il fatto che ha il manico in questo legno, comunque color legno, e pensavo di utilizzarlo in dispensa, per metterci magari le patate e le cipolle, non lo so se sarà comodissimo, io vedo che lo stanno prendendo tutti, quindi probabilmente una sua utilità ce l'ha, potrebbe essere anche comodo, non lo so, vediamo, stiamo a vedere sicuramente la griglia così a forma di cestino, è sicuramente utile per far traspirare i prodotti, come ad esempio appunto patate, cipolle, prodotti del genere, e staremo a vedere, vi farò sapere, e niente, quindi ho preso anch'io questo formato, credo che ce ne siano due formati, e questo qui è quello di dimensione 25x26x18, poi ho preso questa ciotola, che è praticamente una di quelle classiche ciotole dell'IKEA, per la cucina di acciaio, credo che sia, ora sinceramente io non ce l'ho mai avuta, infatti è la prima volta che la compro, vedete che c'è scritto, a parte che sono tutte made in Cina, queste cose qua made in China, che ho preso principalmente con l'obiettivo di utilizzarla per marinare la carne, per cuocere, per fare le torte, per fare i dolci, montare la panna, eccetera eccetera, comunque può avere svariati utilizzi in cucina, e ho deciso di prenderla, proprio perché mi sembra molto versatile, oltre che molto resistente, e quindi ho preso questa qua, che è di taglia abbastanza grossa, ora non so quanto sia il diametro, comunque ho deciso di prenderla, e non c'è scritto il nome, quindi non vi so neanche dire qual è, però è di quella linea classica d'IKEA, che c'è tutto l'anno, poi ho preso questo set di posate per bambini, che avevo già preso, ve lo fate vedere in un unboxing precedente dell'IKEA, in cui avevo preso solo il set di cucchiai, dato che li ho utilizzati tantissimo, i miei bambini piacciono, li usano molto, anche questi li uso, a volte li uso anche io in cucina, sinceramente, ho deciso di prendere tutto il set, anche con i cucchiai, oltre che i cucchiai, anche le forchette e i coltelli, sono di plastica ovviamente, però sono molto versatili, li possono utilizzare i bambini, poi quando diventeranno un po' più grandi, io generalmente questo genere di oggetti, li metto nei giocattoli, e glieli faccio usare insieme ai pentolini, per dare, diciamo, giocare con le bambole, e ci sono diversi colori, quindi ci sono azzurri, gialli, verdi, rose e bianchi, questi piatti, ne ho presi due piatti piani, di questo tipo, sono i soliti piatti dell'IKEA, è tantissimo che esiste questa linea di piatti d'IKEA, sono questi qua, fatti un po' con il bordo, diciamo, ondulato, in una linea classica, un pochino scebbi, io avevo già, ovviamente, questa linea di piatti, però, me ne mancavano due, per arrivare a dodici, perché li vendono sciolti, quindi li potete comprare uno alla volta, allora ho deciso di comprarne ancora due, per completare il set, devo dirvi che non sono molto soddisfatta di questi piatti, infatti, non li ricomprerei, però, essendo che ormai ce li avevo già, ho deciso almeno di completare il set, e poi il giorno che mi stufo, venderò quindi tutto il set, almeno ce l'ho, un servizio da dodici completo, lo venderò, e ne comprerò degli altri, anche perché ho visto che sono usciti, i nuovi piatti d'IKEA, che mi piacciono molto, e sono molto più leggeri, e più piccoli, rispetto a questa linea di piatti qui, che invece è quella un pochino vecchiotta, vedete che sono piatti veramente molto grandi, cioè guardate quanto sono grandi, e soprattutto molto pesanti, poi mi sono presa il mio prodotto preferito in assoluto d'IKEA, degli ultimi anni, veramente questo qua, secondo me è veramente un buonissimo prodotto, e cioè la scatola Scoob, questa qui è una scatola, che vi ho già fatto vedere nel mio video, dei 10 prodotti indispensabili d'IKEA, super funzionali, che vi citavo prima, andatevelo a vedere, e questo qua lo metto sempre al primo posto, in questo genere di video, perché è appunto il mio prodotto preferito d'IKEA, infatti è una scatola pieghevole, che quando non la utilizzate, la potete chiudere e riporre, vedete è molto sottile, occupa pochissimo spazio, e nello stesso tempo, quando la aprite è leggerissima, ci sono i buchini qua ai lati, che permettono di prendere aria, dentro ci potete conservare qualsiasi cosa, è di uno spessore fantastico, adeguato e di una larghezza, comunque ha delle dimensioni adeguate, per essere utilizzata e inserita benissimo, all'interno dei mobili IKEA, in particolare nella libreria o armadio PAX, che io ho in casa, oppure potete anche utilizzarlo, per esempio sotto nel letto contenitore, quindi sotto il letto, cioè veramente potete metterlo ovunque, io ci tengo vestiti dei bambini, le coperte, le lenzuola, potete utilizzarla per riporre, veramente qualsiasi cosa, ha una maniglia qua davanti, che permette di estrarla scorrendo, è una scatola quindi molto resistente, molto leggera, quando non la usate la potete ripiegare e mettere via, e anche molto versatile, tra l'altro ha una cerniera molto resistente, che permette un'apertura nella parte superiore, quindi si apre dall'alto, e infatti se volete conservare queste scatole sotto il letto, quindi ve la consiglio in particolare, per chi ha il letto contenitore, che quindi apre il letto, e secondo me, se voi mettete tante scatole scoop sotto il letto, proprio nel contenitore, potete mantenere un buonissimo ordine, anche perché poi le lasciate lì ferme, e le aprite dall'alto, estraendo poi le cose che ci conservate dentro, vabbè, non so se mi sono spiegata, però comunque vi assicuro, che queste scatole sono molto versatili, e permettono di mantenere la casa veramente molto in ordine, e sono anche carine da vedere, perché poi sono bianche, e si intonano bene, quindi con qualsiasi tipo di arredo, e esistono anche di diverse dimensioni, la mia dimensione preferita è questa qui, e comunque sappiate che, qualsiasi dimensione andate a scegliere, è completamente abbinabile, adattabile ai mobili Ikea, e in particolare al Pax, che più o meno tutti ormai abbiamo in casa. Ho preso questi appendini da porta, ho preso sia questa versione, che questa versione qui, le ho prese entrambe, perché non sapevo qual era quella che può essere più adeguata, per la porta in cui la voglio andare ad utilizzare, ed essendo che non c'era il prodotto montato esposto, e io anche ero un po' di corsa, sinceramente le ho prese entrambe, intanto comunque il prezzo era valido, tutte e due le ho pagate 15 euro, sicuramente le utilizzerò in una porta, quindi sicuro verranno utilizzate entrambe, io volevo metterle nella porta d'ingresso, cioè proprio dietro la porta d'ingresso, per sfruttare quindi quello spazio, poi alla fine inutilizzato, e quindi vediamo quale delle due è più adattabile alla porta d'ingresso, se non si adatteranno, le utilizzerò nelle porte delle camere, io ho anche in casa delle porte scorrevoli, quindi ovviamente per le porte scorrevoli, non sono adeguati, perché vanno proprio appesi alla porta, e niente, quindi staremo a vedere, anche questo è un prodotto che ho notato online, e spero che possa essermi utile, cioè anzi mi auguro, perché secondo me potrebbe essere una svolta, per utilizzare proprio lo spazio dietro la porta, che generalmente è un pochino inutilizzato, e quindi per appenderci vestiti e altri materiali, io pensavo di usarlo in ingresso dietro la porta, per metterci ad esempio le giacche, o magari qualche oggetto che si vuole lasciare, diciamo appunto in ingresso, e niente ragazzi, quindi questo è tutto lo shopping che ho fatto da Ikea, questa volta che sono andata, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito non sono degli shopping giganti, perché come sapete, chi guarda, chi mi segue qui sul canale, sa che io compro soltanto le cose che mi servono, che ho ragionato, non vado a comprare cose a caso, semplicemente perché sto entrando in un negozio di tendenza, come in questo caso Ikea, ma ho comprato cose che so che utilizzerò, che mi servono, e che secondo me possono essere utili, e soprattutto valide, come rapporto qualità prezzo, almeno per quanto riguarda i miei interessi, e assolutamente la mia opinione personale, quindi niente, spero che appunto il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, come vi dico sempre, lasciatemi un like qua sotto, se volete vedere altri video di questo tipo, oltre che lasciare like, lasciatemi un commento, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, vi ringrazio per aver guardato il video fino qui, adesso io vi saluto, e come al solito ci vediamo il prossimo sabato, con un nuovo video, ciao! Ciao!